Maestro, tira una brutta aria? Che paese è questo? Tira una brutta aria? Ma l'aria ha cominciato a tirare brutta da alcune generazioni fa, pensa un po', ormai sta diventando proprio mefitica, direi, e quindi non so dove andremo a finire, anzi io lo so e spero anche. Cioè? Ma io vede, non è che, voi parlate sempre tutti quanti della classe politica, ma non è la classe politica, è ridurre le cose, è la classe dirigente quella che va spazzata via, perché è quella che ha portato l'Italia dove ci troviamo, da due o tre generazioni, la classe dirigente, cioè sono i grandi dell'istruzione, i grandi della medicina, dell'editoria, giornalisti, direttori di giornali, padroni di giornali, tutti questi che si governano l'Italia, non sono solo quei quattro politici che stanno lì, è tutta la classe dirigente che va, secondo me non basterebbe nemmeno una classe dirigente, è la generazione che è bacata, che è morta, che non ha voglia più di far niente, che vuole solo cercare di divertirsi, non lavorare. Senta maestro, il fatto che questo spazio, lo spazio di riflessione come quello che viene offerto dalla TV pubblica, in questo momento sia uno spazio ridotto e che una voce per esempio come la sua che è una voce che non la manda a dire, picchia duro, sia fuori dalle opportunità dell'informazione, che vuol dire? Ma non saprei, forse è anche colpa nostra, è anche colpa mia, perché io poi non è che mi do da fare, io poi non faccio il politico, non faccio il giornalista, non faccio niente di tutto questo, ma la verità è che appunto, che ormai, perciò io con il fatto per esempio che ci sia questa battaglia e questa ostruzione, questa voglia di spazzare via i talk show, a me non me ne importa niente, perché i talk show fanno parte della classe dirigente, fanno tutti parte di questo establishment, sono lì, vanno, si contestano, si mettono d'accordo, fanno un teatrino, fanno tutti un teatrino tutte le settimane, sono sempre le stesse persone, vediamo sempre quelli, parlano, si arrabbiano, sorridono, dicono le battute eccetera, finito poi tutti sono sempre d'accordo, vanno tutti a fare le stesse cose, ma che roba è, ma che significa questa cosa, quando mai dobbiamo essere governati da questo teatrino, tutti, tutti quanti, chi è più o meno duro, più o meno coraggioso, un pochino più, meno cauto, ma tutti sono attenti a non esagerare troppo, a non perdere questa cosa, tutti, i talk show, i, come si chiama, i intrattenitori, tutti guardinghi, tutti attenti a non, fazzi o per esempio un altro che non sbaglia mai, tutto bello a posto eccetera, tutti questi sono deleteri, questi non fanno parte, questi non possono essere quelli che ci conducono, che ci governano, dove, che ci indirizzano, che ci danno delle indicazioni, non hanno ognuno a fare, non ho solo la paura di sbagliare, di non essere dove stanno, di perdere quel posto, tutti, compreso Santoro, per dire uno che poi alla fine è quello che va bene o peggio degli altri. Di che cosa sente il bisogno adesso, che cosa sente che possa sbloccare la situazione di questo Paese? Ho sentito il bisogno dei cambi, veramente una maniera di concepire quello che è la conduzione, dell'amministrazione di una società, che sia l'obiettivo, che ci sia il merito, che ci sia una comunanza di obiettivi e soprattutto l'opportunità sia uguale per tutti, che ci sia l'uguaglianza di partenza. Il lavoro per tutti è la giustizia. Allora c'è la libertà, se loro non c'è libertà. Lei crede che ci abbia libertà un muratore, uno che sta su una gru in nero, che non può fare, se casca di sotto, fanno finta che sia morto il giorno prima e che se dice una parola lo cacciano via. Pensate che sia libero, libertà, vive uno stato democratico. e così viviamo mai da due o tre generazioni, sempre peggio, sempre peggio. Maestro, lei come autore ha subito la censura e la censura che ha subito negli anni passati, è paragonabile a quella di adesso? Adesso pensa che ci sia la censura? Beh, adesso c'è censura, ma non è peggio il fatto, la censura ce la facciamo da noi, ce la fanno da sé. Non è che ci sia molta proibizione, si tenta, però alla fine c'è sempre qualche cosa per cui non conviene. Ma la censura ce la fanno da sé, tutti quanti, se la fa l'infedele, se la fa, come si chiama, che alla fine dicono, fanno, parlottano, si mettono d'accordo, urlano, gridano, ma poi non vanno mai oltre. E infatti, questa trasmissione qui, che è quella più coraggiosa, è quella che dà più possibilità a questo governo fascista di dire, vedete che io posso parlare anche Santoro. Quindi che cosa fa? Testimona a valore quello che c'è. E questa non è. Gente vera che ha a cuore le sorti di una società non fa questo. Rischia e va, rischia anche il posto. Il successo, tutto rischia, ma non si rischia niente. Maestro, lei ci sta dicendo due cose, intanto che questo è un governo fascista, ci ha detto. È una dichiarazione… Ecco, non viene dal fascismo, non è un'emanazione diretta del fascismo, ma poi comunque non è questo, c'è qualcosa di peggio anche del fascismo, non crediate che poi… è un'emanazione fascista. Vi dirò che ha anche delle derivazioni che sono abbastanza tolleranti, ne parlano tutti, ne parliamo anche noi, i fini, eccetera. Perché è un governo che viene, che voleva una società in un certo maniera, orribile secondo me, naturalmente, però aveva una sua idea in testa. E l'altra cosa che aggiunge è che di fronte ad un governo fascista gli italiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi. Sì. Un po' pavili. Sono sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. L'avete visto? Quello che ha combinato, ci ha mandato l'impero, ha fatto le falangi romane lungo via dell'impero, ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra per fare una politica coloniale quando era ferito di tutto il mondo, e poi ci ha mandato in una guerra sbagliata, facendosi distruggere. Eravamo tutti contenti, eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il Mussolini ha sempre ragione, lasciavano lavorare, tutti stavano buoni e zitti. E quegli italiani di allora assomigliano anche agli italiani di adesso? Sì, perché hanno detto, vedi c'è questo grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, lasciatemi governare, votatemi perché io mi sono fatto da solo, sono un lavoratore, sono diventato miliardario, mi farò diventare tutti milionari, benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, credono e fanno. Gli italiani sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro, e poi vada, se va bene, va bene, se va male, ecco che, poi lo impiccano a testa sotto. Questo è l'italiano. Quindi il ritratto di Gasman e Sordi della Grande Guerra non è tanto distante dai ritratti degli italiani che abbiamo a fianco in questo periodo? Sì, in certo senso, però c'era una loro spinta personale, un orgoglio, una dignità della persona più che della… Che noi abbiamo perso. Perso, sì, completamente. Sì. Ormai siamo tutti pronti a… nessuno si dimette, tutti pronti a chiedere il capo, di mantenere il posto, di guadagnare, a sopraffarci, a intrallazzare. Uno si parla… la prima cosa che fa è di mettersi d'accordo con un altro per superare le difficoltà, non c'è nessuna dignità, da nessuna parte. Perciò sto parlando che la… era proprio la… la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via. Non so da che cosa, non so da chi. O meglio io lo saprei, ma lasciamo andare. Il fatto che… non sento speranza nelle sue parole, maestro. No, non c'è, ma la speranza è… Ero venuto qui convinto di avere anche… Non so, perciò ho detto, attenzione che non so se andrà in onda questa cosa qui. La speranza di cui parlate è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio… state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, ci saranno l'aldilà. Così dice quello, state buoni e tornate a casa, sì siete dei precari, ma tanto fra due o tre mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, sì, state buoni, vanno a casa e state tutti buoni. Abbiate speranza, mai avviare la speranza, la speranza è una trappola, è una cosa infame inventata da chi comanda. Mi dice come finisce questo film, almeno secondo lei, questa sceneggiatura? Intanto è una brutta sceneggiatura? Sì. Brutta? No, la sceneggiatura sarebbe brutta perché racconta delle cose… Delle cose brutte ma è scritta bene. Però è scritta in maniera giusta per poterla rifare. E come finisce questo film, maestro? Come finisce… non lo so, non lo so, finisce… ma io spero che finisca in una specie di… quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto meno che in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto, nel senso 300 anni che è schiavo di tutti. Quindi se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici. Se no va dalla valora per come sta andando, ormai da tre generazioni. Una volta c'è stato, si è tentato di riscattare. Abbastanza, direi, barcamerandosi, eccetera, c'è stata una resistenza che in bene o male cercava di fare qualcosa di… sì, abbastanza debolmente. È l'unica cosa di cui possiamo vantarci nella nostra storia, diciamo, di cittadini di questa penisola, che ormai non si può parlare di Italia, è una penisola, è un'espressione geografica.